Beh, diciamo che insomma è veramente bello questo servizio di analisa all'interno del Maniero di San Magno che tra l'altro sarà la prossima contrada del Paglio di Legnano a effettuare l'investitura religiosa quindi proprio nella festa patronale che è il 5 di novembre ma avremo modo di parlare tantissimo del Paglio di Legnano, lo sapete perché insomma Legnano in tv cosa sarebbe senza Paglio ma siccome io mi sentivo troppo sola questa mattina allora ho deciso di attrezzarmi immediatamente e di invitare degli ospiti e che ospiti potrei dire di essere beata tra gli uomini perché ho qui con me due rappresentanti di cui il capo contrada e della contrada di Rescalda che è la freschissima vincitrice del Paglio di Rescaldina eccoli qua, buongiorno a tutti, grazie allora Alessandro, capo contrada come dicevo prima insomma è proprio colui che in questo momento più degli altri ci può raccontare questa vittoria e poi Pierre che abbiamo già conosciuto con Annalisa la scorsa settimana e ha presentato appunto un po' i colori bianco-rossi sì, bianco-rossi benissimo, poi va bene, Fular non mente, non potevo sbagliare con la tacca anche ecco questa, spiegacela, che cos'è? è un'usanza, superstizione, ognuno la chiama come vuole ogni vittoria, di ogni voglio, in Paglio che si vince, ognuno mette qualcosa può anche essere un filo invisibile, un crucifisso così ognuno quello che voglia, avevo questo che mi è stato un ciarma? sì come si mette sui braccialetti? sì, l'ho preso in chiesa l'anno scorso a Natale ah sì, ok, quindi una medaglietta mortiva della Madonna l'ho messo da parte ho detto se ci dice bene, lo attacco io lì sera ci ha detto bene e l'ho attaccato questo è il primo e beh insomma, speriamo il primo di una lunga serie tra l'altro sì, vorrei riempire il folare di queste cose qua però per adesso va bene così e beh insomma direi che già il primo è insomma la Madonna che protegge comunque coloro che si impegnano perché questo è l'impegno questa è passione questo è il Paglio di Rescaldina che è tornato veramente dopo tanti, tanti anni a far parlare di sé con un'organizzazione che è iniziata insomma un pochettino magari con difficoltà un po' in sordina ma che poi ha dato vita a una manifestazione bellissima siamo partiti umilissimi con questo progetto qui che Alessandro Calò ha proposto è stato accettato e ci siamo ritrovati praticamente noi noi cittadini semplici a dire facciamolo, proviamo vediamo cosa succede pian pianino abbiamo visto che giungi uno, giungi due, giungi tre si è arrivato a ieri pomeriggio che c'erano quasi tutto il paese lì a vedere questi giochi e quindi alla fine si può dire che ce l'abbiamo fatta tutta Rescaldina ci sono fatte al di là della vittoria che è quella e della contrada che resta sempre nel cuore ringraziare tutta la cittadinanza di Rescaldina che ci ha dato sostegno e conforto per la riuscita di questo Paglio dopo uno nel suo cuore cioè parla per se stesso e per la sua contrada però non possiamo neanche negare la partecipazione di tutto il paese anzi direi che insomma questo è il valore aggiunto perché se non ricordo male si è pensato di riproporre appunto il Paglio di Rescaldina col bilancio partecipativo che è uno strumento che a volte si sottovaluta un po' invece a quanto pare dà grandissimi frutti come in questo caso e poi ecco le prime avvisaglie insomma del fatto che si faceva sul serio le salgono insomma già parecchi mesi fa con la prima manifestazione che è stata un po' così l'assaggio di quello che poi sarebbe stato il Paglio giusto? Sì c'è stato la primissima il primissimo coinvolgimento che c'è stato con le contrade è stata la pedalata di Vieni in Bice che hanno organizzato la società ciclistica hanno invitato le contrade tanto per vedere se qualcuno andava e se hanno andati in tanti se per dire l'anno scorso a questo Vieni in Bici c'erano 100 persone quest'anno ce ne erano 300 e così è stato per tutte le altre manifestazioni via via nei mesi quando le contrade sono state invitate c'era il doppio se non il triplo delle persone degli anni precedenti questo è da dire perché le contrade tutte hanno fatto tanto per tutti gli avvenimenti di quest'anno ed è assolutamente vero tra l'altro avrete capito già dalle parole di Alessandro Epierre che questo palio non è come quello ad esempio di Legnano in cui tutto si gioca in una sola giornata sfilata corsa ipica e insomma tutto è lì nell'ultima domenica di maggio invece a Rescalda e Rescaldina a Rescalda perché vabbè la contrada vincitrice è questa diciamolo più volte dalla pedalata in su che comunque la pedalata non era a punti come vi avete detto la partecipazione ecco tutte le altre manifestazioni hanno garantito un punteggio che è andato d'accumulo fino a che nello scorso weekend quindi il 29 e il 30 settembre ci si è giocati il tutto e per tutto ma in effetti la classifica non ha lasciato spazio a dubbi già da molto prima possiamo dirlo eh sì siamo sempre stati prima in classifica dall'inizio ecco quali erano queste tappe di punteggio? abbiamo fatto allora che andava a punti c'è stata subito la 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 che abbiamo che abbiamo che c'era già in comune che si chiama che si chiama Balcone Fiorito il comune dà la possibilità a un privato cittadino di abbellire il suo balcone il più bello vince quest'anno hanno detto facciamo anche con le contrade e noi abbiamo proposto invece di fare un balcone di convaggere un privato perché lì vabbè uno gli dà i soldi a un privato fa il balcone più bello e facile ogni contrata si sceglie un angolino del comune di verde del comunale lasciato un po' indietro lo sistema e primo fa del bene al quartiere a tutto il paese e poi il più bravo vince e questo è stato il primo e abbiamo portato avanti l'estetica del nostro paese abbiamo ognuno ha scelto il suo pezzo noi avevamo la piazza la fontana in piazza chiesa l'ex fontana che non era tanto bella ho detto cogliamo l'occasione l'abbiamo rifatta abbiamo vinto è venuta bene e tutti contenti adesso è ancora più bella di prima la gente quando va in chiesa la domenica mattina non viene più con la roba di pese quindi è una cosa bella poi ha visto nastri ha visto fiocchi coccardi insomma in giro per tutto il paese siamo partiti noi veramente è partito lui per primo a fare marciapiedi da solo ci ha messo c'è adesso 2-3 giorni si 2-3 giorni da sole poi da lì ha visto tutto il paese ha visto i marciapiedi di Rescalde e da lì sono partiti con marciapiedi nastri alle finestre sbandiere da tutte le parti ero contento come un bambino quel giorno lì e beh si perché comunque quando si riempie di colori un paese una città è decisamente bello poi il discorso dei marciapiedi ad esempio lo conosciamo molto bene anche a Legnano ed è una cosa relativamente recente insomma degli ultimi 20 anni se pensiamo a quanto tempo è che esistono certe manifestazioni ed è un piacere primo perché anche chi viene da fuori riesce subito a riconoscere qual è il territorio di ogni contrada quindi delimita bene i confini anche solo visivamente e poi insomma è uno spettacolo perché i colori che vengono scelti normalmente sono sempre molto vivi a parte il bianco che è comunque sintomo di purezza ma che è anche luce no? in un certo senso quindi vedere rosso bianco azzurro vedere i colori piuttosto che vedere il grigio infatti è un'altra cosa indubbiamente come i murales quelli fatti bene che vanno a riempire magari i cariti esatto paragone perfetto ecco quindi già questo insomma vi dà un'idea ecco dopo le aiuole fiorite c'è stato il pigiama party sì c'è stato il pigiama party che però anche lì la partecipazione vinceva il gruppo più numeroso non andava a punteggio era un riconoscimento così e la sera lì c'è stata la premiazione dell'aiuola e lì si è vinto anche con l'aiuola l'aiuola abbiamo vinto a partire ha vinto torre nei pali che erano tanti poi dopo cosa c'è stato che ne abbiamo fatte talmente dopo abbiamo iniziato le competizioni gare c'è stato il torneo sportivo del 2-3 giugno giusto le gare fisiche cioè contrada contro contrada le proprie a livello sportivo a livello abbiamo fatto il 2-3 giugno il sabato 2 pallavolo e pallacanestro categoria junior e senior e la domenica abbiamo fatto il calcio 3-4 categorie dai piccoli ai grandi ecco questo è bene precisarlo perché se no ci immaginiamo quelle cose visto che il palio comunque di riscaldina è nel medioevo è ambientato quindi era più facile immaginarci le gare classiche non so tiro alla fune corsare con i sacchi quelle sono venute dopo ecco ci sono state anche queste però diciamo anche l'impatto con la modernità dello sport con il gioco di squadra è stato preso in considerazione lì posso mi permetto mi sono impuntato io tanto nelle riunioni in comune perché i miei contradioli ragazzi volevano la partita di pallone assolutamente e allora io ho lottato tanto era una data buona non a settembre con i giochi veri proprio del palio abbiamo deciso di fare un torneo a parte un torneo sportivo quindi abbiamo incluso la pallavura la pallacanestro e il calcio così almeno io ho fatto contento tutti i miei ragazzi di riscaldi li ho fatti contenti e si è vinto anche lì e beh vedi allora abbiamo vinto quello però hai fatto un bel cilistro lungo sì sì ma io non potevo non lottare per questo perché noi comunque dal direttivo ci tengo a dirlo non abbiamo mai preso decisioni da soli noi prima si andava in piazza telefonavo proprio le scatole a tutti perché volevo sapere tutta le scalda o quanto meno quelli che ci tenevano a stare in questo contesto di contrada volevo sapere cosa volevano cosa voleva fare la frazione in base alle informazioni che la gente mi dava che ci dava le portavamo in comune iniziative nostre personali non ce ne sono state anche perché a me personalmente il calcio non mi piace beh sai però se i ragazzi mi chiedono il calcio io devo per forza giusto sì combattere per dargli la vinta ai miei ragazzi ma anche perché se no è un paglio non si tiene insieme se non c'è la voglia della gente di partecipare per forza abbiamo dovuto cedere su delle cose che avevamo scelte che avevamo fare ad esempio che ero con l'arco poi non si è potuto fare per complicazioni di organizzazione di pericolosità e praticamente questo è stato riuscito perché abbiamo chiesto alla massa della gente cosa fare cosa ne dire poi abbiamo discusso in comune con il comitato paglio ma però erano tutte voci che venivano dalla popolazione dalla cittadinanza certo se non portavamo la voce dei rescaldesi che è insomma una bella voce anche delle belle facce anzi io direi se la regia vuole inviare diciamo sugli schermi dei nostri telespettatori dei livelli in tv qualche contributo fotografico così insomma vediamo un po' di contradaioli festosi e festanti dopo la vittoria di ieri perché insomma questo ricordiamo eccoli qua ecco questo è il direttivo ecco bene quindi direi la crema sì sì noi il gruppo quello che è da un anno intero che lavorano quello che non dormono di notte bravo quelli che non dormono di notte sono io la castellana dicevo questo è lo stendardo il gonfalone che si vince esatto quindi non pensate chissà cosa tesori nascosti però insomma è comunque un vanto e un orgoglio sicuramente poterlo mostrare questo sono io che lo abbraccio perché dopo un anno ho sognato questo momento per un anno alla fine e me lo sono portato a casa è a casa mia qualcosa di adesso ecco quindi non si usa domani lo portiamo in chiesa questa notte è stato con me beh insomma dai ci sta dobbiamo ringraziare anche Don Renato che quando ci ha sentiti arrivare in piazza abbiamo fatto il cortileo di macchine scusate ci vuole dai ha suonato le campane e per noi è stato una gioia in più e beh sì ci ha suonato le campane apposta abbiamo fatto un castello sì perché le campane insomma storicamente sono sempre state proprio quelle che decretavano nel bene e nel male quello che accadeva in ogni paese e le campane a festa sono sempre uno spettacolo da sentire magari non la domenica mattina alle otto ecco signori qua sì questi signori qua sono dei treni umani sono quelli del tiro alla fune ecco questa banda qua sì questi qui che hanno dato l'anima ma per capire capire cosa avevano del cuore bisognava vederli agli allenamenti sì sì cioè staccavano dal lavoro prima si presentavano davano l'anima era cioè il palio secondo me la vittoria è proprio dovuta anche a queste persone il cuore noi l'abbiamo vinto con il cuore con il cuore ci abbiamo messo il cuore in tutte le cose che facevamo ma come pensano anche tutti gli altri sì senz'altro cioè noi parliamo della nostra esperienza ma se non c'era questo senso di appartenenza al quartiere il cuore che ci metti a Don Antonio che ci guardava dall'alto e ci diceva andate non si portava avanti così e anche con il contributo del Don Renato che c'è al giorno d'oggi ci ha dato da fare dove fare le riunioni ci ha dato il campo per fare le prove cioè abbiamo trovato una collaborazione unanime non abbiamo avuto problemi niente niente questo è veramente splendido perché vuol dire che quando una comunità si mette insieme con lo scopo comunque di di vivere un'esperienza di far giocare i bambini perché questa cosa me l'avete detta è molto bella i protagonisti assoluti del Padre delle Scaldine 2018 sono stati proprio loro i più piccoli i bambini ecco loro cosa hanno cosa hanno provato secondo voi voi è chiaro avete quasi le lacrime agli occhi non si capisce che è l'emozione forte i bambini hanno iniziato a a toccarci già il 2 giugno i piccolini del 3 i piccolini del calcio che non più quello del palacanestro che vedevi in campo dei bambini piccoli che hanno dato l'anno per vincere ma sabato ai giochi dei bambini più di 100-50 persone semplicissimi da paese da palio la mera nel cattino la staffetta la bandiera quei giochi litti però sono quelli più belli bellissimi bellissimi ma vedere tutti i bambini di tutte le contratti la grinta che ci hanno messo ma ci sono divertiti tutti nessuno che ha pianto perché ha perso nessuno che ha esultato davanti al bambino che ha perso tutti contenti è stata una festa incredibile e noi grandi abbiamo preso l'esempio dalla riuscita dai bambini dal loro comportamento abbiamo visto i bambini sabato allora noi grandi abbiamo preso l'esempio per ieri e lì abbiamo capito che il palio è riuscito il senso di sportività di aggregazione di divertimento di rispetto di correttezza l'abbiamo preso dai bambini infatti ieri è andato tutto benissimo e se non c'erano i bambini che facevano quel palio di sabato non lo so magari veniva bene ma non così bene il 90% del lavoro l'hanno fatti i bambini questa è la cosa forse più bella perché i bambini sono il futuro e magari anche il futuro di questa manifestazione che non sappiamo ancora se l'anno prossimo si terrà con queste modalità o addirittura se si terrà perché si pensava addirittura a una proposta biennale tra i plus diciamo che hanno permesso la contrada a Rescalda di strappare la vittoria strappare direi di no ma insomma assolutamente da confermare tutta la bontà del lavoro fatto c'è stata la sfilata medievale che è stata ritenuta quella più aderente anche al periodo si il tema che è stato scelto è stato quello per riprendere la storia del lupo d'Alimonta che è la storia di Grossi la storia del paese di Rescaldino è quella allora abbiamo deciso di tenere quel tema lì qualcuno ha proposto anche di cambiare tema ma nei prossimi anni non lo so con tutto il lavoro che abbiamo fatto tutti perciò che non sia il caso perciò che non sia il caso ancora un paio d'anni di andare avanti con quel tema lì però abbiamo deciso di tenere quel tema e anche lì la cosa che è stata che mi ha colpito molto di più di tutto della sfilata è che giorni dopo tanta gente ci fermava e ci diceva vi abbiamo preso in giro tutto l'anno perché pensavamo che veniva fuori una cavolata una cosa così e non siamo venuti l'anno prossimo voglio sfilare anch'io ecco questo è importante quella è una vittoria sì perché vuol dire che tanti ci abbiamo creduto e si è visto perché la Rescaldina così piena non l'ha mai vista cioè non c'è stata nessuna manifestazione ma tanti altri non ci credevano e arrivare a dirti una cosa così mi sono pentito di non aver sfilato e ho detto hai visto come pigemotarti io ero presente ho visto in tanti ah caspita e poi in effetti questo Guinness sta da fare sono stata a tentare l'anno prossimo perché è venuta una cosa estremamente carina poi convogliata la festa della birra quella storica di Rescaldina e quindi insomma la gente poi ha dimostrato di apprezzare e dicevo la sfilata è stata anche lì determinante e poi i giochi del sabato e della domenica ma prima di lasciarci io direi intanto di ricordare la classifica perché insomma anche i numeri hanno il loro peso in questo senso perché voi avete chiuso con un punteggio 111 111 tra l'altro 1-1-1 1-1-1 Ravello 75 non vogliamo cioè non vogliamo sbagliarci però quello cioè tra il primo e secondo c'era un annetto di mare poi gli altri comunque c'è la croce e torre se non sbaglio la torre croce e terza fanalino di coda ma ma relativamente no c'è da dire questo che tutti si sono impegnati al loro meglio dopo c'è chi vince c'è chi perde però tutti al loro meglio e quello che è importante secondo me è proprio quello cioè impegnarsi dopo c'è sempre uno che deve vincere uno vince qualcuno perde e quello che vince era scatto quello per forza ma si capiva da subito chi è che aveva già vinto il paglio nel metà pomeriggio perché io da penso ottobre novembre che ho una faccia e verso le due e mezza tre la mia faccia è cambiata il minato come un angolo di Natale sì perché ovviamente il mio vice capitano mi aveva fatto il conticino mi ha detto abbiamo già vinto il paglio non dire niente a nessuno non matematicamente ma perché no dopo la carriola dopo la carriola sì non ho detto niente a nessuno però si vedeva mi diceva ma come mai sei così tranquillo questo relax e io dicevo siamo a posto così esatto si vedeva benissimo beh si potrebbe parlare per ora di questa manifestazione il tempo però un pochettino stringe allora vi chiederò in chiusura prima perché so che ci tenete molto prima di lasciare gli studi ma poi tornerete mi auguro è più presto di esprimere se volete un ringraziamento che so che ci tenete a fare a una persona in particolare noi volevamo ringraziare prima di tutto tutte le scade ci mancherebbe ma uno in particolare è Paolo Bellucci che è uno dei capi controlla della Croce perché è stato per l'impegno fisico morale monetario che ci ha messo per la sua contrada e per tutte le altre contrade non si è risparmiato per nessuno quello che c'era da fare fisicamente era sempre in prima persona anche gli altri l'hanno fatto ma lui era sempre il primo era sempre uno cioè non si è mai tirato indietro e piuttosto se c'era qualcosa che vedeva che andava fatto che gli altri magari non è che rinunciavano però ten ten out lui era sempre il primo faceva lui e devo dire che anche sportivamente veramente è un ragazzo che merita perché ad esempio è sempre stato il primo a venirci a congratulare quando vincevamo le varie gare è sempre stato il primo Paolo è stato veramente una persona squisitissima corretto onesto rispettosissimo quindi ci teniamo tutta Rescalda ci tiene a ringraziare Paolo la contrada Croce perché anche tutti i contradiori della Croce sono stati fantastici ma in particolare Paolo è una persona così che dovrebbe essere la nostra rivale una persona così non potrà mai essere il rivale di Rescalda perché solo rispetto c'è Rescalda per lui per la contrada Croce ma per lui in particolare senza toglier niente degli altri ma lui praticamente è emerso proprio per questa maniera che lui ha avuto da fare abbiamo parlato prima abbiamo deciso la contrada Rescalda voglio ringraziare pubblicamente Paolo Bellucci perché veramente ecco senza levare niente alle altre non è che vogliamo no no che poi voglio dire questo momento volemo se bene come dire è assolutamente reale tanto più che come avete sentito non si tratta di una persona che fa parte di questa contrada quindi questo vi dà ancora di più l'idea dello spirito con cui è stata affrontata questa manifestazione riportata in vita dopo anni di oblio con entusiasmo con voglia di fare e con insomma questo bellissimo sorriso che avete sul volto adesso perché non solo avete vinto ma soprattutto ha vinto tutto un paese che ha ritrovato un'identità e un'unione che magari prima non sperava di avere perché insomma Rescalda e Rescaldina si sa che proprio proprio d'accordissimo non andava non si va con questo vogliamo ringraziare anche chi ha calò che ha messo in piedi il discorso iniziale il sindaco che ci ha dato del suo tempo personale anche Michele e che ci ha dato anche lui al di là di quello che erano le sue funzioni ma ci ha messo anche lui ci ha creduto veramente esatto cioè anche lui ha pensato al paese e alla comunità esatto allora vedremo cosa accadrà naturalmente l'anno prossimo io ringrazio sia Pier che Alessandro per essere stati con noi vediamo una chicca da mostrarvi anche se non ti piace il calcio per niente però sempre basta forzare se è bianco e rosso poi va bene perché abbiamo incontrato un grande campione che insomma tutti amiamo perché è anche un campione del mondo non è soltanto stato un grandissimo esempio di club e grazie ad Amanda Colombo abbiamo anche realizzato questa piccola intervista in occasione della presentazione del libro Bella Zio che proprio parla di lui Beppe Bergomi una vita da mediano che per l'ambe che per l'ambe che per l'ambe che per l'ambe